Siamo agli sgoccioli, il tempo è tiranno, vi ricordo che nella scorsa puntata vi avevo promesso che vi avrei svelato la differenza tra vela quadra e vela latina, se aveste fatto i bravi. Avete fatto i bravi? No? E allora non ve la svelo. Ma visto che ho un gran cuore ho deciso di darvi una piccola curiosità lagunare. Delle oltre 120 regate che annualmente si svolgono a Venezia ce n'è una in particolare che si chiama Regata Storica ed è una rievocazione dell'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, moglie del re di Cipro, che rinunciò al trono in favore di Venezia. Tutto questo per mantenere e invogliare sempre le persone alla Voga Veneta. La puntata è finita, baci e bacchi a tutti, non mi rimane che dire Voga, 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 alla prossima!